Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano Oggi parliamo di una cosa davvero interessante che mi avete chiesto in tanti sia sotto i video che sulla pagina Facebook Ebbene, è possibile convertire video, è possibile scaricare video da Google in maniera molto semplice? È possibile fare tutto questo con un unico strumento? Ebbene sì, c'è uno strumento utilizzabile da PC sia su Mac che su Windows che è davvero performante e che utilizzo stesso io proprio per far sì che magari con qualche piccola conversione, con qualche piccolo download illecito riesco praticamente ad utilizzare con un solo strumento più utilità Ovviamente la cosa principale da dire è che questo strumento utilizzabile e scaricabile in maniera gratuita sui nostri PC ha anche una versione premium Questa versione premium porta una serie di vantaggi che adesso andremo a vedere Cosa però fondamentale è che qui subentra un nuovo giveaway Ebbene sì, con questo video annunciamo un nuovo giveaway nel quale praticamente nei prossimi dieci giorni voi dovrete fare qualcosa per vincere un qualcosa da parte mia Ovviamente che cosa si vincerà? Se ne vinceranno ben cinque, e dico cinque, account premium di questo software Quindi se volete avere un tuttofare su video e video making praticamente in maniera del tutto gratuita seppur utilizzando una versione Pro seguite questo video Tutto quello che dovete fare per vincere questi account premium sarà semplicemente iscriverlo al canale per chi non lo è lasciare un bel like, commentare qui nel video con participo e condividere il video su un social che sarebbe Facebook Condiviso il video, passate 24 ore molto bene, fate lo screen del posting andate nel mio canale Telegram e nella pagina Telegram vi postate praticamente al bot quello che è lo screenshot dopo 24 ore dalla vostra pubblicazione su Facebook del concorso Il sorteggio ve lo annuncerò nel canale Telegram stesso e sulla pagina Facebook quindi mi raccomando ci saranno dieci giorni per partecipare dalla pubblicazione del video Senza perderci più in chiacchiere dunque passiamo al computer per vedere di che si tratta Molto bene ragazzi Appena aperto il programma il programma ha questa schermata di apparizione Ovviamente come possiamo scaricarlo? Lo scarichiamo da Google il link lo lasciamo in descrizione e questa è la schermata generale del programma stesso Il nome del programma si chiama Video Converter Ultimate e già in questa prima illustrazione dove vedete scorrere il mouse possiamo capire che esso converte video modifica video download di video masterizza DVD trasferisce video e poi ci dà la voce altri strumenti come potete vedere ci dice che c'è un editor facile di video da utilizzare si possono salvare i video da oltre 10.000 siti con un semplice click si può ovviamente scrivere un disco in modo tale da far sì che nasca un DVD di tutto rispetto o si possono trasferire video e dispositivi e dischi rigidi esterni con una modalità interna al programma che trasferisce o conferisce al trasferimento stesso una velocità 3 volte maggiore rispetto a quel che è il trasferimento dati da un computer a una porta USB esterna senza il programma stesso infine cosa anche importante è la possibilità di utilizzare tutti questi software in un'applicazione stessa e il programma infatti ce lo ricorda il programma può tranquillamente andando qui in alto sulla destra nella voce registrazione essere maggiorato con licenza e mail e codice di registrazione questo se partecipate al contest sarà dato come potete vedere in alto troviamo le varie voci di conversione, download, masterizzazione, trasferimento e toolbox ovviamente nella voce converti basta inserire all'interno di aggiungi file quello che è la voce che vogliamo il video che vogliamo convertire una volta cliccato sul video da cartella, da dispositivo, da videocamera possiamo convertirlo nel file che più ci interessa anche in un file mp4 altra cosa molto importante è la voce download dove sempre qui sulla sinistra c'è la voce in colla URL o registra video perché sì possiamo anche ottimizzare la registrazione video come potete vedere in questa schermata ovviamente cliccando adesso a cui ci ricorda che acquistando quello che è il pacchetto premium riusciamo a sbloccare altre funzioni altra cosa molto importante come vi ho detto è il trasferimento basta collegare il dispositivo per passare o sul quale si vuole passare un video e di conseguenza andando a far sì che il video venga passato sul dispositivo stesso attraverso questa applicazione di connessione riusciamo a passarlo in 3 volte più rapidamente e infine nella cartella toolbox c'è tutta una serie di informazioni che possiamo andare a fare cioè come correggere i metadati dei video addirittura la cosa fondamentale è il convertitore VR per chi adora questo genere di cose il nostro video verrà convertito per vedere in maniera VR e infine possiamo anche creare gif molto divertenti bene ragazzi siamo giunti alla fine di questo video spero che ovviamente il video vi sia piaciuto e che il programma lo potete trovare utile mi raccomando partecipate in tanti al contest ripeto lasciare un like al video commentare con partecipo iscrivervi al canale e pubblicare condividere il video su facebook dopo 24 ore fate uno screen al post e venitolo a pubblicare nella pagina telegram del canale stesso al bot mi raccomando ragazzi partecipate in tanti ci sono 5 premi a disposizione fatemi sapere cosa ne pensate sempre nei commenti vi aspetto al prossimo video a